Clizia Incorvaia svela dettagli intimi sul matrimonio. Con Paolo Ciavarro. La sorpresa iconica e il significato speciale della data. Prima di raccontarti cosa ha raccontato l'ex concorrente del Grande Fratello, ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il tuo importante supporto. Clizia Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello VIP, ha aperto il suo cuore durante un'intervista a Casa Chi, condividendo dettagli esclusivi sul suo imminente matrimonio con Paolo Ciavarro. La coppia, nata nel contesto del GF VIP, ha annunciato il fidanzamento il 31 dicembre, con una proposta di matrimonio emozionante orchestrata dal loro adorabile figlio Gabriele. Clizia ha raccontato l'emozionante momento. Lui si mette in ginocchio e pronuncia la fatidica formula, come nelle favole. Ed eccolo qui. La data scelta per le nozze, l'11 ottobre 2024, ha un significato speciale, collegato alla salute della suocera di Clizia, che si sottoporrà a un intervento chirurgico. La coppia ha optato per il mese di ottobre evitando il caldo estivo, e l'11 ottobre è anche il compleanno di Clizia. L'intervista rivela ulteriori dettagli sulle nozze, tra cui l'ambientazione boh chic in una location immersa nel verde, tre cambi d'abito per la sposa e una sorpresa musicale da un'icona della musica italiana, la cui identità, Clizia, ha deciso di mantenere segreta fino al grande giorno. Scopri tutti i particolari esclusivi e le emozioni uniche che attendono Clizia e Paolo nel loro giorno speciale.